Si conferma più o meno stabile ormai da alcuni giorni, anche se è variato il dato dei tamponi processati, il trend dei nuovi positivi in Calabria. Sono 214, erano 188 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, con 2.569 tamponi eseguiti per 2.393 soggetti testati. Due decessi che portano a 632 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, in calo i ricoveri nei reparti di aria medica, meno 8, mentre aumentano di tre unità quelli in terapia intensiva. Dalle province i casi confermati vedono in testa ancora Reggio Calabria, con 91 contagi, seguita da Cosenza con 67, quasi appaiati i territori di Catanzaro e Vibo Valenza, con 26 e 25, in Coda Crotone con 5. Da oggi c'è una nuova zona rossa in Calabria, è quella che comprende il comune di Briatico. Il sindaco del centro costiero vibonese, Lidio Vallone, ha licenziato un'ordinanza con la quale si istituiscono provvedimenti più restrittivi per la circolazione all'interno della città. L'atto ha confermato, il primo cittadino, alla finalità preventiva e si rende necessario per circoscrivere i casi di coronavirus. Preoccupa l'andamento epidemiologico comunale che è in rapida evoluzione ed appare necessario mantenere un livello elevato di precauzione e contenimento dei contagi. Si contano al momento una decina di positivi al testo rapido i cui risultati attendono di essere confermati dal tampone molecolare. L'allarme non si attenua anche nell'altro centro del vibonese, Gelocarne. In particolare c'è apprezzione per il focolaio scoppiato nella frazione Sant'Angelo, dove le persone affette dal virus ora sono 45. I risultati dei tamponi molecolari infatti hanno accertato un incremento di 15 casi rispetto al dato precedente. A questi si aggiungono altri 6 contagi emersi nel centro di Gelocarne per un totale di 15 positivi.